Amici cari amiche, noi continuiamo la nostra interazione con i nostri amici imprenditori che hanno avuto modo di conoscere e apprezzare anche i servizi di Anchiospot. Oggi a parlarne siamo con Antonella di Caffeina Store di Catanzaro Lido ed è proprio Antonella che chiediamo che cosa hai riscontrato e qual è stata l'utilità anche di Anchiospot nel suo caso. Sì, come ho detto, è un'app validissima come Antonio e i suoi video che mi ha fatto conoscere tantissimi negozi di cui non sapevo proprio l'esistenza, quindi grazie ad Antonio e ad Anchiospot. Bene, quindi ringraziamo Antonella perché anche lei, avendo tra l'altro la sua attività Caffeina Store che vi invitiamo a visitare per un ottimo caffè, ha avuto modo proprio tra attività di prendere coscienza di tante altre tipologie di attività commerciali di cui anche Antonella era ignara e che grazie ad Anchiospot se non siete conosciute. Per cui grazie ancora, vi aspettiamo qui. Caffeina Store, un caffè, un spettacolo, un spettacolo.